Sarebbe pronto un nuovo protocollo tra provincia e Asi per rimodulare 44 ettari di terreno a Battipaglia, dove doveva sorgere l'interporto atteso da 20 anni. Un progetto avviato nel 1990, che quindi oggi sarà del tutto superato. Secondo il protocollo, circa 30 ettari saranno destinati per l'industrializzazione 2.0, e invece 10 di proprietà del consorzio ad un UB per l'agroalimentare per i produttori agricoli che assicurerebbero agli imprenditori della piana di salvaguardare la cosiddetta catena del freddo, con trasporti su gomma e servirà da complesso retroportuale in ottica ZES, fornendo quindi le piattaforme logistiche per la realizzazione della zona economica speciale, che erano indispensabili per la sua realizzazione.